Nel salone non c'erano clienti, praticamente da una busta è estratta una pistola e mi ha detto fai silenzio e dammi soldi. Che è successo sta mattina? Un signore, un cliente è entrato, è stato seduto in salone finché ha visto qualcuno che aveva del denaro, è salito e ha strappato di mano i soldi, poi avendo chiuso le porte aveva una pistola in mano, l'abbiamo fatto uscire e dopo abbiamo chiamato le forze d'ordine e i colleghi dell'ospedale. Ha detto qualche cosa? No, niente di particolare, lui non ha solo questa pistola e voleva uscire a basso. Cosa aveva in mano il rapinatore? Una pistola. L'ha estratta da una busta? E cosa ha detto? E ho risposto che voglio i soldi, io ho risposto che non posso uscire i soldi perché sono in questo tempo di fatto. Lui poi se ne è andato? Dopo che si è fatto in giro è entrato nel retto del portello, ha rubistato i cassetti e non ha toccato niente. A presto a presto